Ci sono volute meno di 24 ore alle forze dell'ordine per risalire all'autore della violenta aggressione di Piazza Garibaldi. Grazie alle testimonianze della vittima e della sua compagna e alle immagini di videosorveglianza, la polizia è risalita ad un 27enne romeno, rintracciato e arrestato per lesioni personali. La vittima, un senzatetto poi sottoposto ad urgenza ad un intervento chirurgico all'ospedale di Padova, era stato colpito con un pugno allo stomaco al culmine di un diverbio, seguito a pesanti apprezzamenti che erano stati rivolti alla compagna e ha rifiuto di offrire una sigaretta.